Bentornati ragazzi sul canale Gaming Now, continuiamo il gameplay di Far Cry 2 Dunque Le minacce hanno funzionato, il commando cadrà in una trappola Mokuba Dirigiti lì e distruggi la loro strumentazione Sarà più facile, considerando che anche la PR combatterà contro di loro Dunque, abbiamo seguito la missione dataci da Warren Clyde Ora dobbiamo andare a Mokuba Dunque Con fissura Le scimiette che Stanno a sentire loro Versato Ok Allora abbiamo attirato il commando che dobbiamo distruggere verso questa trappola Atenzione che Ho sentito un sei morto Vorrei che ci fosse qualcuno Torniamo alla macchina Perché se non sbaglio l'avevo lasciata qua da qualche parte Allora abbiamo attirato il commando che dobbiamo distruggere verso questo Ah Non vorrei averla persa la macchina, mi sa che non la trovo più adesso E mi sa che non la trovo più, eh Puttai Non l'avevo messa Non l'ho lasciata qua No A parte che sto andando da tutt'altra parte, vabbè Perfetto Eh, spostarci in piedi è un casino, eh, perché è lontano, quindi E' normale che si può correre, invece lo scatto Allora Ricordiamoci che ci sono anche missioni secondarie che ci vengono date Per ora sto seguendo la storia principale E E Perfetto 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 il attenzione che sento un rumore di macchina il test è tornata la malaria attenzione ah devo prendere la pilola oh 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 bene un bel veicolo tutto per me non 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 E' questo di merda Aiaiaiaia Ok, cambiamo fucile Vediamo questo come si presenta Col fuoco Dove devo spare? Allora E' lì qua Attenzione Oh 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 Pazzo di merda Ancora? E' la troia C'è una lamposta qua Ok Attenzione Siamo sempre allerta con la nostro radar Che teniamo nella mano destra Che magari c'è qualche diamante nascosto Questa Africa è piena di sorprese Due di 57 posti di guardia per lustrati Siamo... Oh due ac... Siamo su... Siamo due su 57 Cioè proprio... Siamo ancora in alto mare Comunque questo E' ora di morire stronzo E' ora di morire E' ora di morire E' ora di morire Ok Ok E' ora di morire Piazzuato ho visto Ecco l'ho visto E' ora di morire non e la macchina non è messa bene però partiamo comunque c'è un altro avamposto riusciamo a perdere l'altra base che c'è un sparo? ehi combina tu! Questa... tagliamo un po' per la boscaglia allora bisogna attenzione qua non volevamo giù magari attenzione la baraccò questo il Cazzo sto finendo le munizioni Prendiamo il fucile Aia Merda Prendiamo il fucile Prendiamo il fucile Prendiamo il fucile Storia di Paul Ferenz aumentata Ferenk Merda di dei guai le minacce hanno funzionato il commando cadrà a nave questo l'abbiamo già letto attenzione c'è un diamante qua a Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. 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 Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. No, no, che è? Sì. Sì, sì. 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 Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì, sì. 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 Oh, una bella macchina. che ci aspetta. ok. che è? Sì. si. 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 mi piace. si. 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 , si. 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 Aspetta che mi dava che c'era una Un diamante qua Sarà Michalà? Sicuramente Stare La mia macchina non me la dica nessuna E dica un'altra Che cosa è un cimitero? Un camioncino? Si può guidare? No Non si può guidare Però qui c'è un'altra macchinina parcheggiata Che farà al caso nostro E questo che è? Stiamo esaurendo i nascondini Mi spiace amico mio Nessun ordine speciale Domani forse No Tranquillo Va bene Usiamo un po' A presto Vabbè C'è un altro avamposto Potremmo Potremmo arrivare C'è un altro avamposto C'è un altro avamposto C'è un altro avamposto C'è un altro avamposto Non sa niente Vabbè Ma è meglio spostare la corsa Mai Via 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.